Sì, finalmente si riparte, non vedevamo l'ora veramente, sono stati dei mesi lunghi e bui, però oggi insomma si riparte, si riparte, fortunatamente abbiamo dello spazio all'aperto, dunque abbiamo parecchi posti all'aperto, abbiamo tutta la veranda apribile che affaccia sui binari, più abbiamo messo dei posti all'aperto, sia qui di lato che davanti dove si può pranzare naturalmente e vedremo anche per la cena, insomma ci stiamo attrezzando anche per la cena, per passare anche delle copertine, naturalmente tutto igienizzato per i nostri clienti. Fortunati che hanno la possibilità di mettere i tavoli fuori, sì, si riparte, meno male che siamo tornati gialli, era un po' di tempo, ormai cominciamo a soffrire insomma, la notizia è straordinaria, riprendiamo la vita, riprendiamo a lavorare, abbiamo già dei prenotati, la cosa ci rusinga, ci dà veramente la gioia di ricominciare. Siamo esclusivamente pronti perché siamo in attesa da tanto tempo, questa diventa quasi una gioia anche se poco perché si lavora solo esclusivamente all'aperto, ma anche la gioia del popolo italiano che può riuscire, può passeggiare, può venire a mangiare qualcosa, è un grande piacere, effettivamente ho avuto già una prenotazione di quattro persone oggi. Fino alle 11, alle 23 bisogna insomma almeno fino alle 23 lavorare e dare la possibilità insomma anche al cliente di mangiare un attimino con un po' di tranquillità, noi anticiperemo anche l'apertura, cioè noi alle 19 saremo già operativi per la cena.